buongiorno a tutti e mi presento brevemente sono eric e zecchieli sono stato uno dei primi 6 7 italiani a frequentare il graduate studies program singolarity university era l'anno 2010 qualche mese prima avevo conosciuto david orban e da allora abbiamo iniziato a collaborare a lavorare insieme per diffondere questi temi che crediamo siano di importanza capitale e che siano assolutamente poco conosciuti compresi e non ci si rende assolutamente conto della disruption incontro la quale andiamo e disruption in positivo in negativo una delle cause principali di disruption cui andiamo incontro è legata proprio al paradigma dominante di business quindi tutti sappiamo che dall 89 con la caduta nel muro di berlino prima c'erano due modelli c'è il modello comunista il modello capitalista dall 89 in poi ne è rimasto soltanto uno come i lender e questo modello ha una caratteristica che è talmente forte talmente consolidata talmente pervasiva che non si nomina neanche più viene data assolutamente per scontata immutabile e il modello capitalista viene considerato un po il capolinea di un percorso di evoluzione quindi siamo arrivati qui da qui in avanti non c'è più niente finito un po come l'uomo no vediamo un po la specie umana come il capolinea di un percorso evolutivo in realtà noi siamo stati qua pochissimi pochissimi anni pochissime centinaia di migliaia d'anni rispetto a una scala evolutiva di moltissimi milioni allora faccio a tutti voi una domanda prima che ne parlasse david o di venire qui quanti di voi per alzate di mano conoscevano le benefit corporation ok direi un un quarto di voi forse un po di meno dicevamo è rimasto dall 89 in poi solo questo modello modello capitalista chi mi sa dire qual è lo scopo di un'azienda nel modello capitalista profitto l'azienda nel modello capitalista un solo e unico scopo che è distribuire dividende gli azionisti qualsiasi altro scopo non è contemplato ma proprio addirittura è proibito per legge cioè il codice civile ti dice un'azienda a questo scopo distribuire dividendi in italia in tutto il resto del mondo una società di capitali ha come scopo quello di maximize shareholders value vi accorgete di cosa manca in questa equazione mancano le persone e manca la natura manca il pianeta terra quindi siccome la macchina funziona molto bene la macchina capitalistica è assolutamente efficace ed efficiente è quasi una forza geologica se ci pensate perché riesce proprio a plasmare la l'aspetto del pianeta plasmare anche la nostra cultura il nostro modo di pensare fa quello che deve fare in maniera molto efficace ma se tu proietti in avanti quest'unico scopo vi accorgete che alla fine vi rimane solo profitto non rimangono nelle persone nel pianeta ed è quello che sta accadendo oggi quindi se noi cominciamo a vedere il business come una tecnologia ci accorgiamo che forse il cambiamento tecnologico l'evoluzione tecnologica in assoluto più importante che dobbiamo portare è quella di trasformare nella sua essenza il concetto stesso di business se non lo facciamo lo ripeto non abbiamo molte speranze come umani resteranno solo capitali senza persone e senza pianeta qualcuno dice no ma non è vero perché le aziende devono rispettare le leggi devono pagare le tasse ok devono pagare le tasse sappiamo che apple paga il 9 per cento di tasse all'anno tutti i giganti tecnologici trovano tanti modi legali per diciamo svicolare da questo tipo di obblighi e l'altro aspetto ci sono tutti gli obblighi di compliance se un'azienda rispetta tutte le leggi tutti gli obblighi di compliance rimane distante anni luce rispetto a quello che è necessario indispensabile oggi fare per affrontare le grandi sfide nel nostro tempo vi faccio un esempio tutti noi io compreso guidiamo delle automobili oggi sono venuto qui guidando la mia auto col motore a combustione interna sono perfettamente in linea con tutte le leggi più avanzate di uno dei paesi avanzati del mondo che è l'italia ciò nonostante pur essendo assolutamente regola sto facendo una cosa che è contraria la capacità di funzionare del sistema climatico terrestre quindi rispettando le leggi oggi noi bruciamo combustibili fossili e sappiamo perfettamente che questa cosa dobbiamo smettere di farla il più rapidamente possibile i massimi esperti al mondo con cui collaboriamo di cambiamenti climatici equilibri di diciamo della biosfera di cui ci parlava per filippo poco tempo fa pochi secondi fa ci dicono dobbiamo essere completamente decarbonizzati completamente decarbonizzati entro il 2040 vuol dire trasformare completamente la nostra cultura coi modelli di business che abbiamo oggi non abbiamo molte speranze di andare in quella direzione quindi nel 2005 2006 ci sono stati degli imprenditori negli stati uniti che hanno detto dobbiamo reinventare il concetto stesso d'impresa e dobbiamo fare in modo che lo scopo di un'azienda non sia solo gli stakeholder ma sia sia anche soddisfare servire gli stakeholder tutti i portatori di interesse è una rivoluzione per la prima volta in decenni o in secoli si dice che lo scopo di un'azienda è quella di avere un impatto positivo sulla società allora singularity university è nata come una non profit quindi come diceva poco fa david una organizzazione che deve costantemente fare fundraising per sostenersi ma non ha un motore economico proprio nel 2012 si è trasformata in una benefit corporation questo da un lato è una forma legale di azienda proprio una forma giuridica che identifica delle aziende che hanno questo specifico doppio scopo e questo modello per quanto recente è già molto molto osservato molto molto noto soprattutto in ambito di innovazione economica ne parlano premi nobel ne parlano presidenti e dicevamo negli stati uniti ci sono 32 stati dove esiste la benefit corporation come forma giuridica di impresa e questo è un aspetto l'altro aspetto quello della misurazione degli impatti perché non basta avere una forma giuridica che ti dice di creare valore per la società per l'ambiente e anche per gli azionisti devi anche misurare se lo stai facendo veramente e qui sempre gli stessi imprenditori che hanno promosso questa forma giuridica hanno sviluppato un protocollo di misura che si chiama b impact assessment con cui è possibile capire se un'azienda sta creando o distruggendo valore per la società oggi nel mondo ci sono più di 50 mila aziende che si sono misurate su questo con questo protocollo e un numero intorno al 4 per cento di queste quindi poco più di 2000 su 50 mila ha misurato di produrre un valore aggiunto di produrre un valore per la società superiore al valore che prende dalla società quindi la benefit corporation è caratterizzata da questi due aspetti una forma giuridica e un protocollo rigorosissimo di valutazione e misurazione degli impatti allora dicevamo singularity university ha assunto questa forma giuridica nel 2012 quando la legge è entrata in vigore in california un'altra azienda tanto per darvi qualche riferimento che ha questa forma giuridica e che soddisfa questi criteri di performance è patagonia la conoscete fa abbigliamento sportivo ma vi potrei parlare di kickstarter la conoscete più grande piattaforma al mondo di crowdfunding o la più diciamo consolidata è una benefit corporation è una b corp certificata e con esse ci sono migliaia di altre aziende nel mondo in italia cosa abbiamo fatto quando sono rientrato da singularity university insieme ad altri alumni abbiamo fondato axelera vedete questo nome qui axelera ha sempre lavorato un po diciamo in background però negli ultimi 5 6 anni organizzato decine decine di eventi incontri attività di presentazioni di lecture in università abbiamo fatto veramente un sacco di attività come non profit abbiamo organizzato cinque global impact competisce questa è la quinta in sei anni e abbiamo così portato avanti con un con un impegno volontaristico tutta una serie di attività io attualmente sono presidente di axelera e nel settembre del 2016 abbiamo deciso anzi singularity university ha offerto la possibilità ha dato la possibilità di aprire diciamo dei branch fuori dagli stati uniti di singularity abbiamo fondato positive impact che ancora una volta una benefit corporation e diventerà una b corp certificata che agisce come ramo italiano di singularity university quindi manteniamo questa stessa costanza nell'applicare questa tecnologia quello che non vi ho detto che tra le altre cose ho fondato la prima benefit corporation abbiamo co fondato io e paolo di cesare un altro imprenditore che con cui collaborano da tanti anni abbiamo fondato anche alumnos di singularity university anche lui abbiamo fondato il ramo italiano abbiamo fondato scusate la prima benefit corporation in europa che si chiama nativa e nativa appunto da alcuni anni promuove questo modello questo concetto in italia con nativa e le altre benefit corporation italiane abbiamo fatto un'azione diciamo così di lobbying anche se il termine un po improprio diciamo un'azione di promozione che ha fatto sì che l'italia nel 2016 abbia introdotto una legge che riconosce le benefit corporation che si chiamano società benefit in italia andate vedere il sito società benefit punto net punto net lo sottolineo e l'italia è diventata il primo paese al mondo fuori dagli stati uniti a riconoscere questa forma giuridica di impresa quindi in italia oggi ci sono circa 150 aziende che hanno già assunto questa forma giuridica c'è un interesse fortissimo dal mondo imprenditoriale da grandi aziende da multinazionali da piccolissime imprese da start up ci sono già una decina di start up che si sono costituite come società benefit c'è interesse di fondazioni di incubatori università che insegnano e diciamo in la cosa interessante ci sono gli studenti che vanno dai professori nelle università e chiedono di fare le tesi sulle benefit corporation società benefit i professori più delle volte non sanno di cose si tratti invece sono gli studenti che spiegano i professori questo tipo di innovazione proprio perché rappresenta un salto di paradigma e quindi siamo arrivati qui direi cinque minuti ma non so farei no farei magari sentire se c'è qualche domanda o che domande avete perché non diciamo fare monologhi così non è particolarmente interessante credo sia molto più interessante il dialogo luigi una domanda grazie volevo volevo sapere che metodo di misurazione d'impatto potete avere essendo che i tipi di aziende sono così diversi cioè cosa qual è meglio formulata qual è la razio che collega l'impatto fra start up che fanno tante cose diverse sì non si parla solo di start up si parla anche di aziende che hanno la più grossa benefit corporation al mondo è un'azienda che fa education si chiama gruppo laureate che gestisce circa 200 campus universitari qua a milano ci sono anche naba e domus academy ha 64 mila dipendenti le più piccole hanno magari due tre dipendenti allora il protocollo di misura degli impatti per capire se un'azienda crea o distrugge valore per la società in realtà è nato prima della forma giuridica circa quattro anni prima e sono stati questi imprenditori che vedevano immaginavano questo nuovo modello che hanno detto dobbiamo mettere insieme tutto lo scibile umano esistente su come misurare gli impatti di un'attività economica questo lavoro ha richiesto un paio d'anni di ricerca e di applicazione è stato finanziato soprattutto da grosse fondazioni in primis la fondazione rockefeller e in tutto sono stati investiti ad oggi circa 30 milioni di dollari per sviluppare questo protocollo di misura in realtà non è un unico protocollo ma ce ne sono più di 100 diversi che vanno a benchmarkare una data realtà in base al settore di appartenenza in base alla dimensione in base all'area geografica e qui viene valutato tutto quello che fa un'azienda quindi impatti economici produzione di valore distribuzione di valore impatti sulle comunità impatti sull'ambiente sui lavoratori la governance è il modello di business quindi sono centinaia di parametri che vengono raccolti vengono verificati vengono validati vengono processati in questo diciamo database molto sofisticato e da tutta questa operazione di analisi viene fuori un numero che va da 0 200 punti e ti dice se un'azienda sta creando distruggendo valore con una soglia di 80 punti su 200 quindi quando l'azienda supera questi 80 punti vuol dire che sta creando più valore per la società di quanto ne distrugga ecco vi dicevo abbastanza difficile arrivare a questi 80 punti perché circa il 4 per cento di chi si è misurato è al di sopra degli 80 punti allo stesso modo quello che sta emergendo in maniera molto forte è l'invito forse l'imperativo per tutte le aziende per tutti gli operatori economici di essere come o di tendere a diventare come una benefit corporation quindi se oggi ci sembra ammissibile che un'azienda possa fare profitti causando eventualmente dei danni alle persone o causando danni ambientali in futuro questo non ci sembrerà più ammissibile anzi già oggi non ci sembra ammissibile solo che magari non lo sappiamo quindi c'è una crescita esponenziale della trasparenza anche rispetto all'operato delle aziende e un giorno dire che un'azienda faceva profitti causando dei danni o inquinando ci sembrerà tanto folle quanto dire che un'azienda impiega degli schiavi duecento anni fa era assolutamente normale dire che un'azienda aveva schiavi oggi ci sembrerebbe una follia esistono ancora però non è considerato un business model diciamo particolarmente smart o particolarmente auspicabile diciamo così